Veri e propri arbusti stanno invadendo il letto del fiume Cosia a Como, il corso d'acqua che attraversa la città, versa in un evidente stato di abbandono con la vegetazione ad occupare gran parte dell'alveo, una situazione purtroppo non nuova che si ripropone ciclicamente. Lo stato di incuria in cui versa il Cosia sotto gli occhi di tutti, verde e piante, in caso di forti precipitazioni, potrebbero ostacolare il defluire delle acque con l'ammassarsi del materiale ed il conseguente rischio di causare esondazioni ed allagamenti. E' dunque necessario un pronto intervento di rimozione degli arbusti e di messa in sicurezza del fiume da parte della regione Lombardia a cui compete la manutenzione di torrenti e fiumi.